Non è solo potenza. È anche perfetta coordinazione tra forza e agilità. È il superamento di un limite verso il prossimo limite da oltrepassare. È l'innata ambizione che porta a nuove emozioni. È il battito del cuore che dà un altro ritmo al tempo. È il battito del cuore che dà un altro ritmo al tempo.